Un altro blitz alla stazione centrale di Milano organizzato dalla polizia. Protocolli di routine senza elicotteri e cavalli come lo scorso 2 maggio. Il bilancio è 10 persone accompagnate in questura. Dopo la radiazione dall'ordine dei medici del principale esponente contro i vaccini, ora sono 12 i professionisti che rischiano a Milano. Ad Armanforte gli studenti, contrari al numero chiuso dei corsi di laurea in lettere e filosofia, interviene anche il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. Il Ter del Lazio ha bocciato la nomina di 7 direttori stranieri di musei italiani. Tra questi c'è anche Palazzo Ducale di Mantova. Furibondo il ministro della cultura Dario Franceschini. Buonasera e buonasera anche dal TGN. Benvenuti a questa edizione, lo avete sentito dai nostri titoli. Oggi pomeriggio è stato effettuato un altro blitz alla stazione centrale per controllare tutti i migranti che si trovano a stazionare nel piazzale, appunto in Piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione centrale. È un po' sulla falsa riga di quello del 2 maggio, di cui adesso vediamo le immagini, ma sicuramente con meno clamore. Gli agenti hanno svolto le operazioni secondo i protocolli di routine, senza l'ausilio dell'elicottero e dell'unità a cavallo, come invece era accaduto lo scorso 2 di maggio. Sono almeno una decina le persone che sono state accompagnate in questura per essere identificate. Uno straniero potrebbe anche essere arrestato per resistenza pubblico ufficiale, perché è scappato quando ha visto gli agenti. È il primo controllo dell'area dopo il servizio straordinario del 2 maggio, che tante polemiche ha sollevato. E soprattutto è il primo dopo l'aggressione da parte del ventenne Ismail Tommaso Ben Yossif Hosni nel mezzanino, costato il ferimento di un poliziotto della Polfer e di due militari dell'esercito. La Questura ha precisato che l'operazione in stazione centrale di oggi pomeriggio è solo uno dei tanti controlli di routine organizzati nell'area e quindi non ha un valore straordinario. Nelle scorse settimane si sono ripetuti servizi dello stesso tipo che hanno avuto un eco minore e che spesso, in virtù di risultati con numeri esigui, non hanno attirato l'attenzione mediatica. Il contrasto allo spaccio in particolare resta una delle attività di maggiore impatto. E sempre a proposito di questo argomento, un incendio è stato appiccato la notte scorsa davanti alla serranda del bar di Pioltello, in provincia di Milano, dove qualcuno, secondo una fake news, avrebbe esultato per l'attentato di Manchester. In realtà la segnalazione riferita da un programma televisivo non ha avuto alcun riscontro da parte delle forze dell'ordine. La notte scorsa qualcuno ha svuotato una bottiglia di liquido infiammabile sulla saracinesca del bar e poi ha dato fuoco. Lievi danni alla saracinesca e comunque il nucleo investigativo di Cassano Dada ha trovato la bottiglia a poca distanza dall'ingresso del locale. Il bar in questione è gestito e frequentato da molti marocchini. Il sindaco di Pioltello ha precisato che non c'è stato nessun festeggiamento nel bar e si è detta amareggiata ovviamente per il clamore suscitato da questa notizia che appunto abbiamo detto è una fake news. E parliamo di lui allora. Parliamo di Osni, il 23enne italo-tunisino che nel mezzanino della stazione centrale la scorsa settimana aveva accoltellato due militari e un agente della polizia ferroviaria. Le indagini continuano anche per capire quale fosse il legame di Osni con le cellule jihadiste se c'era questo legame e di che natura fosse. Sentiamo Paolo Pirovano. Ismail Tommaso Osni che il 18 maggio ha ferito a coltellate due militari e un agente della polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano avrebbe agganciato tramite il suo profilo Facebook alcuni siti dove comparivano proclami e contenuti inneggianti alla jihad e all'ISIS. In attesa dell'interrogatorio di domani proseguono le indagini sul ventenne italo-tunisino indagato per terrorismo internazionale, resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio. Inquirenti e investigatori stanno cercando di verificare se Osni, che poi ha postato sulla sua pagina Facebook alcuni video dello Stato Islamico, si sia agganciato a quei siti radicali per curiosità o nell'ambito del percorso di radicalizzazione che stava seguendo, forse indottrinato, aiutato da qualcuno. Gli esperti informatici della Procura della Repubblica sono al lavoro per scoprire i punti di accesso al profilo Facebook utilizzati dal ventenne. Osni è rinchiuso nel carcere milanese di San Vittore. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Manuela Scudieri, non ha avuto dubbi sulla sua capacità di intendere e di volere. Per questo motivo ha respinto l'istanza del legale di Osni, l'avvocato Giusi Regina, che aveva chiesto durante l'interrogatorio di garanzia di disporre una perizia psichiatrica. E comunque sarà interrogato in procura domani nel primo pomeriggio. Quindi l'interrogatorio è previsto per domani, il primo pomeriggio. E sempre legato allo stesso argomento, è stato denunciato per diffamazione un 24enne italiano che è stato identificato come l'autore di un post di insulti e minacce rivolte al sindaco di Cinisello Balsamo, Siria Trezzi. Sono intervenuti i carabinieri effettuando le opportune indagini identificando la persona che ha scritto il commento nel post del sindaco su Facebook gli stessi scorsi giorni. Ricordiamo che il giovane aveva insultato il sindaco Siria Trezzi apostrofandola con termini molto volgari. Il giovane ha chiesto scusa, si è detto molto dispiaciuto e ha detto di vergognarsi per quello che è accaduto e comunque non risulta appartenere ad alcuna forza politica né ad alcuna particolare associazione. Quindi insomma l'ha fatto come gesto privato su autonomamente e ripeto appunto ha chiesto scusa. E c'è stato un episodio gravissimo. Oggi pomeriggio a Segrate, un uomo di 38 anni ha sparato in strada la ex moglie di 35 in via Benvenuto Cellini a Segrate ferendola gravemente alla testa. I due erano in via di separazione e l'aggressione è avvenuta pochi minuti dopo le 16. Dopo aver colpito la donna l'uomo si è sparato alla testa ma nessuno dei due è morto sul colpo. Sono stati trasportati in condizioni gravissime in ospedale. L'uomo si trova adesso al San Raffaele mentre la donna al policlinico. La coppia viveva in un comune a sud di Lodi e ha quattro figli. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto i due litigare in un parcheggio pubblico appunto in via Cellini. I due si sarebbero spintonati finché l'uomo ha estratto la pistola e ha sparato alla testa della moglie. La ferita alla nuca lascia immaginare che sia stata colpita appena si è voltata. Subito dopo il 38enne ha rivolto l'arma verso se stesso puntandola in questo caso alla tempia e l'arma risulta con matricola a Brasa. Adesso cambiamo decisamente argomento. Sapete di ieri la notizia della radiazione di Dario Miedico il medico che si era opposto con grande forza all'obbligo dei vaccini radiato dall'ordine dei medici ma adesso proseguono le ricerche perché ce ne sono altri 12 che rischiano la stessa procedura. Vediamo. Dopo la radiazione di Dario Miedico decisa all'unanimità dai 15 membri della commissione dell'ordine dei medici di Milano si profilano altri procedimenti disciplinari nei confronti di 17 professionisti. Le loro posizioni sul tema delle vaccinazioni sono ancora da verificare. Anche loro come Miedico sono firmatari di una lettera che esprimeva perplessità sulle vaccinazioni pediatriche. Abbiamo ricevuto più di un esposto ma per ora siamo cauti precisa il presidente dell'ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi la fase in cui ci troviamo è preliminare dovremo analizzare la questione chiedere informazioni ai diretti interessati e decidere insieme di da farsi. Miedico è stato processato sabato scorso quando l'ordine gli ha chiesto conto delle sue posizioni critiche nei confronti delle vaccinazioni 77 anni Miedico lavora da alcuni anni a tempo pieno come consulente e medico legale nelle varie cause intentate dalle famiglie per danni da vaccinazioni ed è attivo nel coordinamento del movimento per la libertà di vaccinazione la mia radiazione è il modo per terrorizzare tutti i medici che esprimono idee diverse e controcorrente ha detto a botta calda ha poi aggiunto sui vaccini si è scatenata una caccia alle streghe io non sono assolutamente contro sono solo fermamente contrario all'obbligo da cui emergono tutti i danni che ho visto in questi anni poi ha aggiunto l'accusa è molto pesante il clima è questo specie dopo il decreto Lorenzin è una decisione indicativa di un atteggiamento drastico nei confronti delle vaccinazioni speravo che l'ordine avesse coraggio ha concluso Miedico e vedremo come l'ordine appunto valuterà gli altri 12 medici che appunto hanno firmato insieme a Miedico quello di cui abbiamo sentito parlare adesso cambiamo argomento ancora cronaca è stato catturato dalla squadra mobile di Milano Gian Marco Formisano il 34enne ritenuto a capo della banda che rapinava i pusher della zona di San Siro fingendosi poliziotti dell'antiterrorismo il 22 maggio scorso gli investigatori hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere ma all'appello mancava ancora Formisano l'ottavo che appare chiaramente in un video registrato da una telecamera di sorveglianza durante uno dei colpi come vedete dalle nostre immagini immagini fornite dalla polizia di stato è stato trovato martedì scorso in un appartamento a Rozzano in provincia di Milano gli agenti hanno avuto la certezza che fosse la casa giusta seguendo la madre che gli portava le sigarette e hanno sentito anche il cinguettio di un pappagallo lo stesso udito in sottofondo in una intercettazione il latitante aveva trovato ospitalità da un 42enne e domiciliari per violenza e resistenza al pubblico ufficiale quando ha aperto la porta ai poliziotti è andato in escandescenze per coprire la fuga di Formisano che dall'ottavo piano è saltato scalzo sul balcone di un'anziana vicina dove poi è stato bloccato il 42enne e domiciliari è stato indagato per favoreggiamento nel cellulare aveva il servizio del telegiornale sull'arresto della banda ora parliamo invece dell'università statale abbiamo seguito la vicenda degli studenti contrari al numero chiuso deciso invece dall'ateneo per i corsi di laurea nelle facoltà nelle materie umanistiche come lettere e filosofia e dopo che il senato accademico appunto ha approvato definitivamente il numero chiuso le proteste non accennano a diminuire gli studenti si lamentano alcuni professori sono con loro ma a sorpresa c'è anche un altro supporter degli studenti che è il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli sentiamo Paolo Pirovano il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli prende posizione sul tema del numero chiuso in statale e si schiera contro la decisione del rettore Gianluca Vago di imporre un test di ingresso ai corsi di laurea dei dipartimenti umanistici la titolare del MIUR invita il rettore a riflettere anche a fronte dei dati su laureati Fedeli ha poi aggiunto che si tratta di questioni che devono affrontare le università visto che hanno autonomia la posizione del ministro dà forza alla protesta all'interno della statale dove tra gli studenti si ragiona sulle future strategie per andare avanti quella per arrivare al numero chiuso non sarà una strada facile il tempo a disposizione è infatti poco e i dipartimenti sono resti a collaborare tutti erano contrari all'introduzione del test d'ingresso in quello di filosofia hanno rassegnato alle dimissioni i membri della commissione paritietica composta da studenti e professori che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e vigila sull'operato del dipartimento favorevole al numero chiuso il sindaco di Milano Giuseppe Sala ne ho parlato con il rettore perché è un tema delicato mi ha citato l'esempio di Oxford afferma Sala dove ci sono 100 laureati all'anno in filosofia mentre qui abbiamo 700-800 richieste ad accogliere tutti si rischia di creare molti disoccupati adesso una notizia arrivata da poco che riguarda sempre l'attentato di Manchester perché si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime feriti della strage terroristica appunto di Manchester la seduta del Consiglio Comunale di Milano di fronte a questi eventi di follia e dramma che segnano il nostro tempo è doveroso fermarci per un minuto queste sono le parole del Presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolet tra le vittime dell'attentato c'erano bambini e ragazzi e insieme a loro vogliamo ricordare oggi anche le giovani vittime del naufragio di ieri bambini che hanno perso la vita nel canale di Sicilia ora vi facciamo vedere un video abbastanza inquietante perché al cimitero maggiore di Milano sabato scorso è stato celebrato il quarantennale della morte di Salvatore Umberto Vivirito ex militante neofascista di avanguardia nazionale morto il 21 maggio del 77 a solo i 22 anni a seguito di una ferita d'arma da fuoco rimediata nel corso di una rapina due giorni prima a una gioielleria di Piazza Udine a Milano Vivirito assassinò crivellandolo con sei colpi di pistola il titolare del negozio l'assalto serviva per finanziare un non precisato gruppo eversivo di estrema destra ecco ma la curiosità è vedete che c'è un parroco che sta parlando a questa celebrazione e si tratta di Don Orlando Amendola ed è proprio il cappellano del campo 10 del cimitero maggiore il campo dove sono sepolti i caduti della Repubblica Sociale di Salò nella sua orazione il sacerdote ha ricordato il camerata rapinatore sottolineando nelle qualità di eroe della solidarietà il coraggio di combattente l'ostinazione nel battersi quando vedeva l'ideale umano oltraggiato queste le parole del cappellano la cosa che colpisce di più è il saluto romano di Don Amendola che adesso vedremo alla fine di questo video e ricordiamo eccolo qua il saluto romano perché ricordiamo che il gesto è vietato dalla legge italiana ogni anno è presente alla cerimonia in ricordo dei caduti della Repubblica Sociale nel suo campo 10 una cerimonia che i camerati facevano cadere provocotariamente il 25 aprile cioè il giorno della liberazione dal nazifascismo quest'anno venne la prefettura la vietata ma i militanti hanno rimediato quattro giorni dopo il 29 di aprile sempre con la benedizione di questo amato prete adesso una buona notizia tra tante brutte notizie ce n'è una positiva è stato ritrovato alla stazione centrale di Milano Andrea Vollaro questo era il volantino che era stato col tam tam diffuso ieri proprio diffuso dai genitori per far sì che il ragazzo venisse trovato bene era stato non si avevano più le tracce di questo ragazzo dalla notte di martedì bene alle 13 di oggi due carabinieri lo hanno notato mentre passeggiava in stazione con la sua chitarra lo hanno accompagnato nei loro uffici per poi avvertire la famiglia il giovane appunto era andato via con la sua chitarra elettrica l'allarme era stato lanciato dai genitori e si attraverso questo tam tam con la foto che girava sui social ma anche con la trasmissione della RAI chi l'ha visto ora parliamo dei musei una notizia di carattere nazionale che però ha un contraccolpo anche sul palazzo ducale di Mantua e forse su Brera a Milano perché i candidati stranieri non potevano partecipare alle nomine per i musei italiani ebbene Franceschini il ministro Dario Franceschini ne ha nominati sette e sono sette i musei italiani appunto affidati a direttori non italiani ma a questo punto con la bocciatura del Tarra bisognerà rifare le nomine e oltretutto viene fatta una pessima figura a livello internazionale vediamo bufera sulla riforma dei musei attuata dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini riforma che rischia di tornare così al punto di partenza il tribunale amministrativo regionale del Lazio con due sentenze ha infatti bocciato cinque dei venti direttori dei super musei annullando le nomine immediata la reazione del ministro su twitter scrive Franceschini il mondo ha visto cambiare in due anni i musei italiani e ora il Tar Lazio annulla le nomine di cinque direttori non ho parole ed è meglio tre i punti fondamentali che hanno convinto i giudici ad accogliere il ricorso di altri candidati il bando della selezione non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva di reclutare dirigenti pubblici fuori dalle indicazioni tassative espresse dall'articolo 38 se infatti i legislatori avesse voluto estendere la platea di aspiranti alla posizione dirigenziale ricomprendendo cittadini non italiani lo avrebbe detto chiaramente nel testo del Tar si parla della illegittimità delle modalità di svolgimento del concorso a rafforzare la sostenuta illegittimità della prova orale la circostanza che questa ultima si sia svolta a porte chiuse mentre in altri punti si parla di criteri magmatici nella valutazione dei candidati con la riforma di Franceschini dopo le selezioni sette direttori sono stranieri tra i quali quello del parco archeologico di Pessum e del palazzo ducale di Mantua interessati dal verdetto del Tar la riforma ha assegnato a 32 musei la piena autonomia organizzativa scientifica finanziaria e contabile è quasi certo che il ministero ricorrerà in appello al consiglio di stato prima di chiudere un'altra notizia una 34enne di Cologno 34enne scusate di Cologno Monzese è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di animali o messa a denuncia di arma bianca vediamo la storia a casa sua un appartamento di 50 metri quadri dove vive con la moglie e due bambini i militari hanno trovato un pastore tedesco femmina chiusa in bagno e un rottweiler sempre femmina con 10 cuccioli chiusa in cucina nel giardino della proprietà poi c'era una gabbia di grosse dimensioni con all'interno la carcassa di un cane avvolta in una coperta una scena raccapricciante sia il nucleo familiare sia gli animali costretti in spazi angusti a quanto si apprende vivevano in condizioni igienico-sanitarie molto precarie nell'appartamento i carabinieri sono arrivati su segnalazione di alcuni residenti che sentivano continui latrati e anche cattivo odore sulla carcassa saranno eseguiti accertamenti mentre gli altri cani sono stati affidati al canile di agratebrianza in casa l'uomo aveva anche una spada giapponese di cui non aveva denunciato il possesso un tipo diciamo originale questa era davvero l'ultima notizia mi fermo qui vi ricordo che dopo la sigla le previsioni del tempo al solito appunto ci sono le previsioni del tempo il meteo poi c'è Nova Stadio Sprint con Massimo Scarinzi e i suoi ospiti e a seguire giovedì c'è Griglia di Partenza con Gigi Vignando arrivederci a l'ultima notizia a l'ultima notizia a l'ultima notizia a l'ultima notizia l'ultima notizia a l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia